...intanto so che ti sei informata su tutta la storia di Riccardo Fogli, vero? Benissimo, no? Perché ieri dovete sapere che gli avevo fatto una specie di piccola interrogazione sul fatto di chi era stata una grande love story tra Patti Bravo e un grande personaggio della musica leggera italiana che faceva anche parte dei pub e lei non riusciva a capire il nome. Beh, detto questo, invece, spieghiamo il motivo per il quale hai scelto questa canzone di Patti Bravo dal titolo Imparedissimo. Beh, diciamo, mi piace molto come tonalità, insomma, è una canzone abbastanza forte che, anche se è di qualche anno fa come quel che è da solo, ha stata apprezzata su varie versioni, quindi... È fantastica, perché lei parla e cammina. Cioè, non ha capito che cosa è stupenda. Ieri, fra l'altro, siccome non era ancora arrivata dietro le quinte, è arrivata di corsa di là. Allora, arrivo! Ci fai un attimino? Come fai? Arrivo! Perfetto. Allora, accogliamola con un applauso, Serena Bertossi, Ismaradizio. Grazie. 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 Grazie a Serena Bertossi.